Ora sposto la sede e la faccio sedere, lo fanno sempre nei film. Scusa, era per me? Lo sapevo, è che si aprì in mo'. No, io a casa lo faccio sempre, mi diverto proprio a spostare le sedi e i bicchieri. Cosate? Noi diciamo è riuscito appunto a conquistarmi, anche se inizialmente il rapporto tra noi due era un po' strano, perché lui lo possiamo definire pazzoide. Ha reso la mia battuta, uno pari. Carino questo posto, vero? Davvero bello, lo conoscevi già? Sì, ci vengo spesso. Ah se spesso e con chi viene? È molto divertente e soprattutto è espressivo, quindi mi faceva molto ridere. È anche proprio la sua sicurezza che vi dimostra nel film. Fuori dal film? Perché no? Dove rispondere a lei? No, non nasce. Che rispondiamo? Eh no, non è nato niente tra noi due fuori dal film, però comunque siamo diventati molto amici. Grazie. Grazie.